Non è disoccupato, cosa che gli è capitato a tanto nella sua vita, sta lavorando, ancora qualche mese di stipendio ce l'ha, ma la cosa più importante è che Fabio Murtas è il proprietario di un immobile, proprietà sua, gli hanno già lasciato i genitori per non sbagliare e proprio nessuno glielo toglie. Ah, dimenticavo, Fabio Murtas è eterosessuale, quindi per tutti i maschietti non è questo il momento, mi dispiace per voi. L'unico problema è che Fabio Murtas, ed è un grosso problema per un batterista, ogni tanto perde il tempo, quindi vogliate essere così gentili da seguire questo assolo di gran cassa, della durata di 25 minuti con le vostre mani inestante, battendole tipo così. Laggiù, forza! Qua si muove, qua si, tiravolti, qua su siete i migliori. Qua si muove, qua si muove, qua si muove, qua si muove già? Qua si muove, qua si muove le si sperrò le si sperrò, la assicabi e dzieci,ımıisto non con le vostro lo viespava. Qua si muove, qua si muove, qua si muove, qua si muove le si muove poche! Quasta bere che umano, con l'aducca, lo viespava. Grazie per la visione! 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 Grazie!